Signor Sindaco, gentile Assessore, naturalmente carissimo magnifico Rettore, grazie di cuore per l'invito, per le parole che avete rivolto introducendo questo appuntamento. Io ho preparato una riflessione sul valore dell'Università oggi, ma se mi consentite direi di lasciare da parte le considerazioni che volevo offrirvi, che naturalmente vi susciteranno grandi momenti di dolore adesso, non ci leggerà il suo discorso, e proverai invece a rispondere a alcune sollecitazioni, tanto quelle che sono venute dal Sindaco, per me è la prima occasione di visita a Venezia dopo la tua elezione, caro Sindaco, quanto quelle che sono emerse dall'Assessore, e soprattutto ad alcune considerazioni che ha svolto il magnifico Rettore, che ci consentono di poter entrare nel merito anche dei prossimi passaggi per l'Università, per Venezia, ma soprattutto per un'idea d'Italia. Confesso che entrando sono rimasto abbastanza colpito, perché c'erano un po' di ragazzi e naturalmente gli mancabili selfie, però poi tra i tanti si è fatto strada, con tenacia veneziana, un signore, un diversamente giovane, mettiamola così, e mi ha detto io sono un san giobbino, che lì per lì confesso di non aver capito, poi ho collegato, con un po' di pazienza ho capito anch'io, persino io, io sono un san giobbino, la mia casa era lì e mi è parso di leggere nel suo sguardo l'orgoglio. Certo sicuramente in tutte le trasformazioni urbane, lo sa il sindaco e lo saprà sempre di più nel corso della sua esperienza da primo cittadino, che poi in realtà vuol dire ultimo cittadino, il sindaco è l'ultimo cittadino, non è mai il primo, è quello che spenge la luce la sera della città, è quello che si deve caricare le difficoltà e i problemi di tutti, ma lo sa il sindaco in un processo di trasformazione urbana, io credo che gli anziani del posto siano una sorta di monumento nazionale, gli anziani del posto sono quelli che durante i cantieri con il piedino spazientito si mettono a guardare e anche a contestare la velocità dei lavori, ma sono soprattutto quelli che tengono vivo il valore più grande per un pezzo di territorio che è la memoria. Mi è parso di scorgere in questo San Giobbino sicuramente un elemento naturale, normale, fisiologico e umano di nostalgia per ciò che cambia, ma anche probabilmente visto il lungo percorso di cambiamento che quest'area ha attraversato e che il video ha splendidamente mostrato, anche un senso di orgoglio, pensare che questo pezzo di Venezia è destinato al valore più grande che ha questa città e mi permetterete di dire a questo paese, l'educazione, l'investimento sul domani. Il primo dei vostri video diceva il futuro è qui. Io sono convinto, caro sindaco, che il futuro sia qui, a Venezia. Lo dico da ex sindaco di una città d'arte che ha sentito quanto Venezia, forse per alcuni aspetti meno di Venezia, ma per altri più di Venezia, un dibattito ormai pluridecennale sul rapporto tra cittadinanza, residenza, fruizione turistica, evocazione di messaggi globali e contemporaneamente conferma delle tradizioni. Mi ci sono appassionato per anni e credo che sia un elemento chiave della discussione del futuro di queste metropoli, che poi non sono grandissime, non sono le metropoli tecnicamente intese nel senso di città enormi come il numero di abitanti, anzi molto piccoli rispetto ai numeri mondiali, ma sono metropoli per il valore che suscitano, perché dovunque tu vada il sindaco di Venezia, come il sindaco di altre città d'Italia, sarà riconosciuto senza neanche bisogno di definizioni. Al massimo ti chiederanno se, ma quale, Venezia vera o Venezia una delle tante Venice che ci sono, io ho contato che c'erano sette Florence degli Stati Uniti, non so quante Venice, vedremo se di più o di meno, ma non è questo il punto. È l'idea che tu comunque sei alla guida di una metropoli mondiale, anche se non ha i numeri della metropoli, ma ha la forza, ha il valore. E allora vorrei da questo punto di vista dire che il futuro è qui, queste non sono città scrigni del passato, sono anche questo, ma sono i luoghi identitari del futuro del Paese e io credo del futuro delle nostre comunità. perdonatemi se parto di qui, prima che dalla discussione sulle grandi questioni universitari, ma ci arrivo tra un attimo. Il nostro mondo sta vivendo una fase di accelerazione, che sicuramente gli informatici, come il magnifico Rettore, possono cogliere con maggiore dovizia di particolari e con maggiore attenzione tecnica, ma che tutti noi tocchiamo con evidenza. Stavamo preparando una visita in un Paese africano, ci spiegavano che in quel Paese 25 anni fa c'erano 500 linee telefoniche, oggi ci sono 60 milioni di cellulari. L'accelerazione è sotto gli occhi di tutti. 25 anni fa il Presidente degli Stati Uniti d'America aveva accesso a delle informazioni che oggi stanno contenute dentro un telefonino. Poi naturalmente la qualità delle informazioni, la capacità di discernimento e la fruizione delle medesime costituisce l'elemento chiave e quindi chiama in ballo una volta di più l'educazione e la capacità di leggere certi dati. Ma il mondo è totalmente accelerato. In questa accelerazione il mondo è messo in discussione nella sua identità da chi vorrebbe cancellare il valore stesso della nostra cultura. Questo ragionamento vale a Palmira, questo ragionamento vale nelle università colpite dal terrore, questo ragionamento vale nei musei che diventano luoghi di attacchi terroristici. Chi attenta alla nostra identità ha ben chiaro qual è il senso profondo che caratterizza il nostro essere innanzitutto donne e uomini e colpisce quei simboli. E allora Venezia avrà sempre un valore straordinario ed evocativo ma anche un valore concreto che crede insieme, che aiuta a tenere insieme non soltanto l'Italia come tu hai detto ma la nostra stessa identità. Ecco perché io credo che quando ci accostiamo di fronte a queste città occorra sì entrare in punta dei piedi per la grandezza della storia ma occorra anche sapere che stiamo entrando con tutto noi stessi nel futuro di ciò che dovremo essere. L'Italia tra vent'anni, tra cinquant'anni, tra cento anni sarà sicuramente quella che riusciremo a costruire insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti ma sarà io credo un luogo evocativo per il mondo se manterrà forte la propria caratteristica di superpotenza che non è la superpotenza militare con tutto il rispetto per la straordinaria forza delle donne e gli uomini che servono al nostro paese con una divisa, che non è la superpotenza nucleare o la superpotenza diplomatica, stasera noi ospitiamo un importante appuntamento con alcuni ambasciatori delle Nazioni Unite, non è neanche la superpotenza politica, lo dico con tutto il rispetto per il governo che protempore guido o la superpotenza legata a valori tradizionali, è la superpotenza culturale, è il soft power che ci salverà e in questo senso Venezia è un pezzo del futuro del paese. Non immaginatelo semplicemente come un museo a cielo aperto da coltivare, coccolare, apprezzare, amare ma poi da riempire con i ricordi e non con i progetti. Sotto questo profilo caro sindaco non ci fa velo minimamente il risultato elettorale di oggi, di ieri, di domani. A noi, nella nostra veste istituzionale, la tua, quella dell'assessore, quella mia, nel nostro ruolo per il quale siamo stati chiamati dalle regole e dalla Costituzione sulla quale tutti abbiamo giurato. Per questo noi saremo sempre disponibili e pronti a lavorare senza alcuna incertezza, senza alcun tentennamento. Noi siamo qui per dirti il governo è pronto a fare la propria parte perché Venezia sia ciò che deve essere non per i veneziani ma per il mondo intero. Questo è il primo punto dal quale volevo partire per le considerazioni che il sindaco ha espresso. Sarebbe molto interessante continuare a parlarne ma credo che invece sia mio dovere intervenire sulle vicende più legate all'università. Non posso però che sottolineare la disponibilità sia sotto il profilo dei contenitori culturali che questa città ospita e che sono di patrimonio dello Stato che dei contenitori industriali che ancora oggi nelle disponibilità di aziende partecipate o comunque di realtà legate al mondo dell'impresa vedono da parte nostra la totale volontà di cooperare e di collaborare sulla base di progetti chiari, trasparenti e finalizzati all'interesse dei cittadini. Del resto premiare il merito non significa cercare di fare il meglio degli altri, significa cercare di fare il meglio di se stessi. Il merito per me è questo. Ed è il merito ciò che vogliamo affermare nella riforma o comunque nel tentativo di affrontare insieme la grande questione universitaria. Vorrei tranquillizzare il magnifico Rettore, se c'è bisogno di tenere a bada Faraone lo teniamo, glielo garantisco. Abbiamo già dato un mandato a qualche deputata del PD di minacciarlo via sms ma al di là delle delle battute e delle ironie il punto chiave è che l'Italia ha attraversato anche plasticamente una fase di transizione molto 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 profonda e simbolicamente questa settimana lo rappresenta. Questa settimana abbiamo approvato al Senato la riforma costituzionale in terza lettura, saranno poi i cittadini a dire sì o no, quindi non saranno i parlamentari ad avere l'ultima parola, però era una delle cose di cui in tanti dubitavano, su cui in tanti dubitavano. È una riforma che è stata approvata. Poi si è approvata la legge di stabilità, poi si è fatto un consiglio europeo in cui la politica dell'immigrazione che tanta eco aveva avuto sui giornali in questi ultimi sei mesi è stata sostanzialmente avallata dall'Unione Europea. L'Unione Europea sei mesi fa diceva che ciascuno doveva fare per conto suo accordo di Dublino come punto di riferimento insostituibile, oggi scopriamo che invece c'è bisogno di una politica europea condivisa. Perché dico questi tre passaggi, le riforme istituzionali, cui poi si potrebbe collegare a tutte le riforme job d'acte, pubblica amministrazione, scuola, anticorruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo tipo di lavoro, questa fase molto appassionante per noi, ma anche molto difficile, di riforme, va verso la sua conclusione. Un anno fa, se avessimo detto a qualcuno che in un anno l'Italia avrebbe visto la nuova regolamentazione del diritto del lavoro con il job act, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della scuola, la legge elettorale, la riforma della Costituzione non impantanata come sembrava che dovesse essere e altre riforme su cui non vi tedio, dal divorzio breve, per dirne una, alla riduzione delle tasse, che non è un elemento chiave probabilmente in questa discussione, ma che è molto importante nella vita dei cittadini, la stragrande maggioranza avrebbe detto, eccone un altro, un altro di quelli che fa l'elenco delle promesse e poi non le realizza. Oggi che questo tipo di attività, che poi magari qualcuno non condivide, perché è legittimo, però oggettivamente in realtà, cioè quelli che non sono d'accordo con le nostre riforme, diranno ma guarda che brutte riforme che hanno fatto, ma devono riconoscere che le riforme ci sono e non ci credeva quasi nessuno. Oggi che questa fase è finalmente in fase di ultimo miglio, io credo che inizi il bello e il bello è occuparsi di ciò che caratterizzerà l'Italia nei prossimi vent'anni. E il bello è provare insieme a scrivere le nuove regole per l'università, partendo non dalle intuizioni del governo, ma dalle considerazioni di chi l'università la vive. Vorrei che non vi entusiasmaste, perché abbiamo provato a farlo anche sulla scuola, con risultati, devo dire, in termini di coinvolgimento non amplissimi. Bella questa espressione eufemistica neodorotea. Ma è andata così. Noi abbiamo iniziato con una campagna di ascolto sulle questioni della scuola. In molti non hanno creduto che avremmo fatto davvero un lavoro di riforma e abbiamo visto che poi c'è stato anche un dibattito, molte critiche, molte considerazioni negative e non apro quella porta, non apro questa discussione. Dico che lei, signor Magnifico Rettore e i suoi colleghi, hanno da questo governo governo, non la disponibilità ad ascoltarsi e a parlarsi, ma la richiesta di provare a scrivere insieme le nuove regole del gioco. Partendo dalla prima, che è quella di togliere l'università italiana dal perimetro della pubblica amministrazione intesa come regole. partendo cioè da un principio che non si governa una università nell'era della conoscenza, nel paese che dovrebbe essere il leader della conoscenza al mondo, con gli stessi criteri con cui si fa un appalto dentro un'asle o un comune o una realtà amministrativa di vario genere. Questo non significa che non ci sia bisogno di avere la massima trasparenza, anzi di più. Ma se vogliamo scommettere su dei criteri in cui il vostro competitor o modello, secondo quello che ha detto Brugnaro, è Boston, o se non volete Boston scegliete le università inglesi, o se non volete le università inglesi guardate come stanno crescendo le università in Oriente. 45 anni fa la Cina aveva chiuso le università con Mao, aveva chiuso le università. 45 anni dopo ogni anno la Cina laurea più ingegneri di tutti quelli iscritti all'ordine in Italia. Eppure gli ingegneri italiani sono considerati tra i più bravi al mondo. Nonostante che nelle nostre classifiche e anche nelle classifiche internazionali permere difficoltà organizzative, noi siamo sempre in fondo e non siamo in cima. La sto prendendo larga, ma la sintesi è vogliamo finalmente togliere l'università dal perimetro della pubblica amministrazione? Ci stiamo. Vogliamo affrontare dei criteri per cui indipendentemente dalla modalità, che per me deve essere la più trasparente e legata al merito possibile, si sa ogni anno per un giovane che vuole studiare e che poi vuole fare la parte post laurea. Quanti sono se ci sono i posti e i concorsi per poter diventare ricercatore o per avere la certezza di un percorso? Perché una delle cose che a me sconvolge è che girando per il mondo trovo gente che se n'è andata semplicemente perché aveva in altre università la certezza di alcune posizioni. Sapeva che lì si bandivano i concorsi in un certo modo e che lì si giocavano, che ogni anno c'erano tot occasioni. Io non sto dicendo che ai nostri ragazzi va detto te ce la farai sicuramente, no. Sarebbe anti-educativo, anti-pedagogico, ma dobbiamo dire a chi si laurea voglia di credere nell'università nella ricerca tu potrai provarci e ci potrai provare senza che una volta c'è il blocco, la volta dopo non c'è il blocco. Ecco la prima misura della nuova legge di stabilità, che non è l'Imu e la Tasi che vengono eliminate come prima casa, cheppure è importante, che non è il super ammortamento per le imprese, cheppure è importante, che non è l'Imu e la Tasi e l'Irapp agricola, cheppure sono importanti. Ora vi faccio tutto l'elenco della stabilità, così faccio la pubblicità a progresso e la stabilità, anzi che parlare di voi. Ma il punto chiave, vi risparmio gli altri 20 tweet, è che ci sono mille posti per i ricercatori e che questi mille posti per i ricercatori non sono un unatantum, sono una regola costante. Noi dobbiamo affermare un principio per il quale ogni anno lo Stato dà certezze aggiuntive, additive, ha detto il magnifico Rettore, rispetto ai sogni e alle speranze dei ragazzi. Chiaro. Poi abbiamo anche messo una misura one shot, una misura davvero unatantum. per andare a prendersi 500 professori, non necessariamente dall'estero. Io non ho una particolare esterofilia. Cioè non credo al principio che chi va all'estero ha un cervello in fuga e chi rimane a casa è un pancreas in patria. Questo atteggiamento è un atteggiamento che è tipico della subalternità che noi abbiamo filosofica. Chi vuole andare e se ne vuole andare, ma che se ne vada. Il mio compito è garantirgli l'occasione di tornare se vuole. Se poi si trova meglio nella Silicon Valley o a Singapore. E lui ha il diritto di stare a Singapore nella Silicon Valley. Ma bisogna che le nostre università siano in grado, uno, di essere attrattive per quello che vuole tornare. E due, di poter attrarre a loro volta. Noi non inventeremo mai una nuova Silicon Valley. Questa storia dice facciamo la Silicon Valley. Non c'è niente di più provinciale di quello. La Silicon Valley rimarrà la Silicon Valley finché andrà avanti quell'era che lei magnifico conosce molto bene. Non potremmo pensare di costruirla ex novo semplicemente con un ragionamento a tavolino. Non esiste. Io ho visto, da noi si chiamava Arno Valley, qui non so, tutte le volte si metteva davanti un epiteto geografico e poi ci si inventava il valley. Non è così. Però questo può diventare un luogo attrattore di alcune realtà che non sono necessariamente la Silicon Valley, ma che sono capaci di innovare con maggiore capacità e maggiore passione. Intanto, cambiando la filosofia e la mentalità, è bellissimo che ci siano questi spazi. Noi abbiamo un problema. Che se la Silicon Valley fosse stata qua, non necessariamente in Veneto, dove sennò sarebbe l'assessore, ma in qualsiasi regione italiana, e in un garage si fosse chiuso, un paio di ragazzi si fossero chiusi a studiare il primo computer o qualcosa del genere, probabilmente l'Asla sarebbe entrata nel garage e li avrebbe chiusi, anche perché non ci prendiamo in giro. Il primo personal computer è nato a Ivrea. Lo dico perché due giorni fa ho ricevuto due dei quattro del team, i due che sono ancora tra noi, e belli in forma peraltro, e quei due, un ingegnere e un perito elettronico, nel portarmi il programma 101, fatto di nascosto perché l'Olivetti in quel momento stava buttandosi sulla meccanica anziché sull'elettronica, c'erano le interviste dell'Olivetti che diceva basta con l'elettronica il futuro e la meccanica, e si può succedere di prendere delle strade che poi non sono quelle giuste, quel computer è nato dall'intelligenza degli italiani, allora gli italiani sono in condizione di farla la sfida. Bisogna trovare dei luoghi e degli ambiti in cui possano giocare le proprie carte, e poi se lo vanno, vanno all'estero e vengono altri, o viceversa, se qualche ragazzo intrappolato parte e se la gioca, ma viva Dio, è la bellezza del mondo globale. Ma devo dirlo a Venezia che le città sono il luogo dell'incrocio, del dialogo, dell'incontro. Lo devo dire in questa università dove i corsi di lingue non sono semplicemente un modo per prepararsi al futuro, ma sono un modo per far rivivere il passato, sono le lingue che parlavate, che sentivate, che sentivano i bisnonni dei vostri bisnonni, nelle strade di questa meravigliosa e unica città. Ecco che, allora, l'Italia che lei ha definito magnifico rettore, mi avvio a chiudere con gli aggettivi, ma ne sono segnati qui, sto guardando messaggini, ne sto twittando, sto guardando i messaggini pensando alle cose che lei ha detto, ha bisogno di portare l'università fuori dalla pubblica amministrazione, dal perimetro della PIA. Ha bisogno di avere mille ricercatori e 500 docenti bloccati dalle trappole della burocrazia. Ha bisogno di essere internazionale, ma l'internazionalità significa essere, come è sempre stata Venezia, un luogo di confronto, non deve essere subalterna. Quando lei dice giustamente che l'Italia che verrà deve fare, ad esempio, come avete fatto voi, una laurea magistrale in governance della pubblica amministrazione, significa per esempio dare un messaggio che vale per le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione, che noi non possiamo essere tutte le volte subalterni al principio culturale per cui ciò che dice l'Europa è giusto, ciò che diciamo noi è sbagliato. Intanto perché l'Europa siamo noi. L'Europa non è altro da noi. L'Europa è nata dai sogni e dalle intuizioni di alcuni grandi italiani, è nata a Roma nel 1957, è stata fatta dagli italiani e, piccolo particolare insignificante per molti, ma per noi, come gli sghei, sono sempre sghei, ogni anno diamo 20 miliardi all'Europa e ne riceviamo in cambio 11. Cioè questa idea che l'Europa sia il luogo nel quale noi, con il cappello in mano, andiamo a dire scusate possiamo far questo, possiamo far quest'altro. Nei 28 paesi soltanto noi abbiamo questo atteggiamento. Perché negli ultimi anni si è affermato un principio in cui si va in Europa per piacere a chiedere qualcosa. I canali di Venezia sono Europa, almeno quanto i palazzi di Bruxelles. Le piazze e le periferie italiane sono già Europa. Smettiamo di considerare l'Europa il luogo nel quale si va a prendere ordini. L'Europa è una costruzione straordinaria, fantastica, che ha assicurato anni di pace nell'unico posto dove si combatteva da sempre, ma che ha bisogno di essere rafforzato e in qualche modo fatto vivere dalle intelligenze, dalle passioni, dalle università. Ecco perché è fondamentale che nella vostra scuola di governance della pubblica amministrazione, nella vostra laurea magistrale di governance della pubblica amministrazione, si faccia passare il concetto che noi abbiamo bisogno di donne e uomini che poi possano giocarsi la carta del funzionario dello Stato, del dirigente dello Stato, in grado di non considerare ciò che accade fuori da noi sempre buono e ciò che accade a casa nostra sempre un problema. E perché questo accada c'è bisogno che tutte e tutti noi siamo nelle condizioni, di rispondo e rispondo alla considerazione che lei faceva, di esprimere una leadership culturale che l'Italia ha sempre avuto e che deve avere ancora con più forza. Ecco perché mi permetto di applaudire alla vostra iniziativa di Borso di Studio. Noi in questa legge di stabilità aumentiamo i denari per la cooperazione internazionale. Io mi vergognavo, temo di vergognarmi anche il prossimo anno, smetterò di vergognarmi dal 2017, dei fondi quando mi siedo al tavolo del G7. Perché l'Italia che ha avuto una storia di cooperazione internazionale è poi diventata l'ultima. abbiamo iniziato a mettere soldi sulla cooperazione internazionale, però vanno messi con intelligenza, vanno scelti, non vanno buttati via talvolta dandoli anche a realtà esecutive inefficienti o persino corrotte. E in questo senso non c'è motore più potente dell'università nel fare cooperazione internazionale. Se tu scegli alcuni paesi e in quei paesi immagini di poterci costruire una scommessa di ponte tra Italia e quel paese, certo puoi intervenire sull'Oil & Gas a partire da Eni, certo puoi fare iniziative con la straordinaria forza del terzo settore e di chi va a fare volontariato e di chi va a fare cooperazione internazionale, certo puoi fare con l'ONG, certo. Ma se tu vuoi scommettere sul rapporto d'amicizia con loro hai bisogno di dire vieni a studiare a Ca' Foscari o in una delle grandi università italiane e vedrete che con questi scambi universitari nei prossimi 30, 40, 50 anni allora sì che fai un investimento. È l'università il motore dello scambio dei prossimi 50, 30, 40 anni nel nostro paese perché noi possiamo giocare questa leadership culturale. Io penso e ho davvero finito su questa considerazione poi un unico passaggio all'assessore e un augurio finale a tutti voi. Io penso che questo sia il modo con il quale si risponde anche alle grandi difficoltà del nostro tempo. Noi abbiamo scenari di guerra molto complicati. Ieri Ban Ki-moon era alla Camera, ha fatto un intervento anche molto ampio su tutto ciò che facciamo. L'Italia è un grande paese. L'Italia è presente da molti anni in Afghanistan. Tra l'altro stiamo valutando proprio in queste ore la richiesta americana di proseguire per un altro anno. Avete visto quello che il Presidente Obama ha detto qualche ora fa. Siamo presenti in Libano dove governiamo e guidiamo il contingente Unifil. Siamo presenti in Kosovo, siamo presenti in tante zone del mondo con i caschi blu e non soltanto con loro. Siamo presenti un po' dappertutto nei grandi scenari. È italiano l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria. Abbiamo una partita particolarissima in Libia. Siamo presenti in questi scenari. Ma essere presente non serve a niente se non c'è una strategia su dove vogliamo andare in prospettiva. Se la politica estera è soltanto reazione, per cui hai dei leader che si alzano e decidono di volta in volta come e dove bombardare, quasi che fosse una reazione per la propria opinione pubblica, più che una strategia condivisa, poi vediamo che cosa accade. Alcuni scenari sono diventati quello che sono perché è mancato una strategia complessiva. Ecco perché io credo che la leadership culturale che l'Italia può giocare sia una leadership culturale che serve a rendere il Paese più autorevole e più solido. Ed è questo l'unico, vero, grande obiettivo che noi abbiamo. La parte delle riforme è andata. Ancora no. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come si dice secondo i nuovi principi del brocardo e dell'antico pensiero giuridico. Ma comunque è ben indirizzata. La parte più interessante inizia adesso. In un mondo così frammentato e frastagliato cosa può essere l'Italia? Certo, e rispondo e chiudo all'assessore, ha detto Elena che il Veneto può essere un modello. Io non ne ho alcun dubbio. Credo che su molte cose noi dobbiamo copiare dalle esperienze migliori. Ho qualche dubbio che il buon risultato di Garanzia Giovani sia dovuto all'applicazione del vostro metodo. credo che derivi molto di più dal fatto che qui c'è un contesto imprenditoriale ed economico ben coltivato anche dalla sapienza delle lavoratrici, dei lavoratori, delle imprenditici e degli imprenditori che aiuta questo. Credo in altri termini che se noi copiassimo paro paro il sistema di Garanzia Giovani Veneto e lo portassimo in Calabria, non avremmo gli stessi risultati che tu giustamente hai sottolineato come positivi, ma trovo che sia invece sacrosanto l'appello ai costi standard. Perché, e questa è una delle grandi novità di questa legge di stabilità, se una cosa costa X a Venezia non può costare X alla seconda da un'altra parte. Ma non può costare nemmeno X più 10, più 20, più 30. Perché questi soldi sono i soldi di tutti. Allora, il benchmark sui costi standard, gli investimenti su una semplificazione amministrativa, la valorizzazione di ciò che c'è di buono in tutto il Paese, costituiscono una base fondamentale di questa legge di stabilità. È dunque una legge di stabilità, quella approvata ieri, che ha molte considerazioni positive. Tutte le misure annunciate sull'università sono in più. Certo, rimangono alcune questioni, alcune le sottolineava il magnifico Rettore, in particolar modo quando faceva riferimento alla necessità di sbloccare per alcuni comparti, in questo caso della pubblica amministrazione, le indennità e gli stipendi, sostanzialmente. Ma quello che per me è fondamentale è che nell'inaugurare un campus noi si parta dal San Giubbino dell'inizio. Un signore di qualche anno, che vedendo questa massa di ragazzi che stavano premendo all'entrata, quello cinese, quella che viene dal Pakistan, quelli che vengono dal resto d'Italia, all'occhio lucido, pensando alla nostalgia per ciò che è stato, ma anche il cuore orgoglioso, pensando a ciò che può essere questo luogo. Questo luogo può essere uno dei punti di ripartenza del Paese. L'Italia è tornata al segno più dopo anni di crisi e di recessione. Ma questo segno più, che ancora oggi molti italiani faticano a vedere, è un segno più che sarà stabile e consolidato se, finita la parte delle riforme strutturali, noi ci concentreremo su ciò che di più grande può fare l'Italia. Essere orgogliosa della propria storia, ma essere capace di educare e di investire sul capitale umano. A Caffoscari, caro Magnifico, avete una grande responsabilità. Caffoscari è un punto di riferimento mondiale. Il campus che oggi si inaugura, o meglio, che oggi si conclude, è un campus che ha visto probabilmente non so quanti rettori inseguire pratiche. Ho paura di alzare la mano, ho paura di chiedere a chi alzino la mano. A occhio sui 19 anni direi 4 o 5. Non le faccio il conto dei Presidenti del Consiglio. negli ultimi 19 anni. E neanche dei Sindaci di Venezia, per carità di Dio. Forse da parte nostra ci deve essere anche un'attenzione diversa da dove c'è un progetto. A dire che quel progetto si fa in due anni, in un anno, in tre anni. Perché questa è una delle norme contenute nella legge Madia, ma che deve diventare realtà. Per il momento è soltanto in gazzetta ufficiale. Quello però che è fondamentale è che questo progetto può essere un progetto che riporta Venezia al centro del dibattito culturale e accademico, ma che riporta le ragazze e i ragazzi italiani, o quelli che sono italiani protempore, quelli che vengono soltanto per qualche anno, o i forestieri, i foresti, come li ha chiamati il Magnifico, perché a Venezia ho capito che li chiamate foresti, da noi si dice forestieri, a dedicare un pezzo del tempo della propria vita a fare la cosa più bella del mondo. tornare ad essere capaci di costruire cultura, cioè di essere curiosi su di sé e sul proprio domani. In bocca al lupo.